Buonasera a tutti e benvenuti. Ora che gli smartphone siano sempre e facciano sempre più parte della nostra vita è cosa nota, ma stupisce comunque il livello di dipendenza che in certi casi viene addirittura soggettato a una sorta di malattia che avrebbe un nome scientifico. Si curiosi, illuminati, chiedono che la nomofobia venga inserita nel novero del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. In buona sostanza che cosa succede? Succede, o magari però, ecco, riflettiamo tutti insieme e cerchiamo di capire se questo ragionamento possa calzare anche al caso nostro e al caso concreto. Ad esempio, il 60% dei proprietari di smartphone, secondo diverse ricerche, ammettono di sentire una forte ansia l'idea di essere separati dal loro telefono. Addirittura un terzo di questi dichiara che preferirebbe piuttosto rinunciare al sesso. Ancora si ha una paura di rimanere sconnessi dal proprio smartphone e se si dimentica per caso a casa il cellulare si sta male pensando a quelle che potrebbero essere le notifiche ricevute piuttosto allo stesso telefono che potrebbe squillare. Qui addirittura vi sono sempre da statistiche persone che si portano in senso lato a letto il proprio cellulare, lo tengono vicino, questo con problematiche anche relative alla quantità e alla qualità del sonno. Solo per fare un esempio, il 50% delle persone dichiarano che la prima cosa che fanno quando anche di notte per caso si svegliano è assolutamente di controllare il telefono. Ancora una persona su quattro non mette in silenzioso, comunque non stacca il proprio telefonino quando va a letto per paura di perdere qualche notizia importante dell'ultima ora e sempre tanti possessori di smartphone sono felici e sereni e preferiscono assolutamente al mattino essere svegliati dal proprio cellulare. Condividiamo? Non condividiamo? Sembra una questione strana, campata per aria? Va, forse quello che vi ho raccontato così potrebbe essere un pochino anche una parte del nostro vissuto quotidiano senza che questo stia a significare una malattia, un disturbo patologico, ma indubbiamente il rapporto con il nostro smartphone negli ultimi anni si è assolutamente intensificato quasi come un'altra parte del nostro corpo della quale non possiamo in nessun modo fare a meno. Riflettiamo su questo anche se forse un ritorno al passato con la vecchia sveglia che suona, il profumo magari di un caffè caldo che ci risvegli insieme al bacio del buongiorno forse potrebbe contribuire a debellare quello che viene definito appunto un problema mentale e quindi una nomofobia lasciando perdere sempre per quanto riguarda l'attività sessuale che forse è indubbiamente migliore cosa rispetto al telefonino nel nostro letto così del quale ci preoccupiamo la notte che dobbiamo controllare per avere un certo conforto. Grazie.